I nostri dei sono in realtà degli alieni? Punto di domanda, Luca dacci la risposta! Qui intanto è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video con il grande privilegio di diffondere ciò che scopro viaggiando nel mondo invisibile e accompagnando tante persone con il mio ruolo da sciamano nel mondo invisibile facendo da traghettatore, da guida turistica, guida turistica dei viaggi nel mondo invisibile e dei viaggi nel mondo dell'organizzazione della mente, di connessione tra mente e cuore bene, so che ultimamente c'è della letteratura in giro che circola, che cerca di convincere le persone del fatto che gli dei siano in realtà degli alieni così come c'è della letteratura in giro che cerca di convincere le persone che Dio è blu o così come c'è della letteratura in giro che cerca di convincere le persone che Dio ha la barba bianca e punta il dito vedi voi vi soffermate sui dettagli e non andate al di là e quindi mi fate ste domande allora una foto, se tu hai la foto di tua figlia, di tuo figlio, di tuo papà, di tua mamma della tua figlia, della tua figlia, della tua figlia, del tuo amico, del tuo cane, il gatto, il topo, l'elefante quella foto rappresenta il divino, non è il divino si rappresenta, è una rappresentazione quella foto rappresenta tua mamma, tuo papà, tuo nonno, tuo zio ma non è tuo papà, tuo nonno, tuo zio è una rappresentazione bene l'uomo blu, Krishna, è una rappresentazione Michelangelo quando disegnò Dio è una rappresentazione che serve a riportare tutte le statue eccetera i vari crocefissi, le madonne, sono una rappresentazione di una figura di un concetto basta pensare all'antichità a Pollo, a Zeus, a Nettuno se tu ci pensi sono dei concetti il Dio dell'amore come fai a rappresentare l'amore come fai a rappresentare l'amore come fai a rappresentare il vento sono la ricchezza la bellezza sono dei concetti astratti difficili da diffondere e le persone si sono adoperate nel migliore dei modi a cercare di rappresentare queste cose attraverso delle grafiche così come ci sono delle persone che sono appassionate di alieni hanno un grande rapporto con gli alieni e quindi vedono alieni ovunque e che bello perché c'è mai fatto caso che quando tu compri una macchina nuova a quel punto inizi a vedere quella macchina da tutte le parti e la stessa cosa succede con gli alieni se tu ti appassioni degli alieni inizi a vedere gli alieni ovunque acquisisci questa abilità di focalizzazione se ti appassioni del divino inizi a vedere il divino in ogni cosa ok quindi non è tanto importante capire se gli dei siano alieni se Dio è blu c'ha la barba bianca la cosa veramente importante è che cosa significa per te quella roba lì quella roba lì quello è il traghetto per te per arrivare al divino se invece pensare che le divinità sono aliene se sono belli ti piace l'idea di avere delle divinità aliene? sì e allora continua a pensare a credere a questa cosa qua ma se invece l'idea di avere delle divinità aliene non ti fa stare bene beh allora cambia pensiero perché solo tu sei responsabile dei pensieri delle credenze che hai nessun altro e quindi se ciò che credi ciò che pensi ti fa stare bene continua se ciò che credi ciò che pensi non ti fa stare bene cambia lì c'è il tuo libero arbitrio nella capacità di rispondere alle cose che ti accadono nella vita sì quindi decidi tu se ti fa stare bene il fatto che gli dei siano degli alieni non ti fa stare bene Grazie.